Il tuo ministero sacerdotale, come fedelico operatore dell'Ordine dei Vescovi, nel servizio del popolo di Dio, sotto la guida dello Spirito Santo? Sì, tu non è. Vuoi aderchere degnamente e sapientemente il ministero della parola, nella predicazione del Vangelo e nell'insegnamento della fede cattolica? Sì, tu non è. Vuoi celebrare con devozioni e fedeltà i sacramenti, secondo la tradizione della Chiesa, specialmente nel sacrificio dell'Eucaristia e nel ministero della riconciliazione, all'Ordine di Dio e per la santificazione del popolo cristiano? Sì, tu non è. Vuoi implorare la Divina Misericordia per il popolo a te affidato, dedicandoti assidualmente alla preghiera, come ha comandato il Signore? Sì, tu non è. Vuoi essere sempre più strettamente unito a Cristo, sommo sacerdote, che si è offerto come vittima pura a Dio Padre per noi, consacrando te stesso insieme con Lui per la salvezza di tutti gli uomini? Sì, con l'aiuto di Dio lo prometto. Prometti a me e ai miei successori, filiali rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compilare. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, 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 la sua opera. Grazie.